Perché si invecchia e perché si muore? L'invecchiamento e la morte sono dei fenomeni intrinseci al ciclo vitale dell'essere umano. Ogni specie infatti ha una sua aspettativa di vita che dipende dal luogo di residenza, dal tipo di alimentazione e anche dal suo stile di vita. Noi umani però abbiamo appunto un invecchiamento ritardato. Questo tipo di invecchiamento ritardato non ce l'ha nessun'altra specie se vogliamo di primati. Nessun altro primate raggiunge infatti l'età avanzata di Homo sapiens e questo probabilmente è stato legato a diversi fattori tra cui lo sviluppo del linguaggio e i grossi progressi tecnologici che la nostra specie negli ultimi anni ha compiuto. Dal punto di vista evoluzionistico gli anziani sono utili per sostenere la prole e quindi i nipoti anche quando non possono più procreare. Trasmettono conoscenze essenziali e anche saggezza alle generazioni successive. L'invecchiamento però perché si ha? Si ha appunto perché c'è un mancato riparo di un danno. Il corpo umano infatti si autoripara con il controllo dei danni e con la sostituzione regolare di alcune parti. Questo processo però a un certo punto della vita può bloccarsi per vari motivi perché c'è un accumulo dei danni e quindi ovviamente questo accumulo dei danni rende più difficile la riparazione o perché si verifica appunto un accorciamento dei telomeri che sono appunto l'estremità dei cromosomi. Una volta che i telomeri diventano troppo corti non possono appunto continuare se vogliamo a dividersi e quindi declinano anche tutte quelle che sono le risorse cellulari e si accumulano anche degli errori durante la replicazione del dna che portano ovviamente nel tempo a malfunzionamenti delle cellule. In più i processi infiammatori cronici vanno a danneggiare i tessuti e impediscono la riparazione e ne derivano una serie di patologie come l'artrite, le malattie cardiache, il diabete che contribuiscono ovviamente a tale processo di invecchiamento. Il nostro corpo però quello che fa è bilanciare la riparazione dei danni con altre priorità. Ci sono delle ragioni precise infatti dal punto di vista evoluzionistico per cui il corpo non investe risorsi e sforzi per poter riparare il danno arrivati appunto ad un certo punto della vita ed è per questo motivo che in soldoni alla fine dei conti si inizia appunto a avere un deterioramento e subentra appunto la morte. In primo luogo c'è un trade off tra le risorse cioè l'evoluzione ha dovuto fare delle scelte su come allocare le risorse nel corpo. Investire troppe risorse nel riparo del danno potrebbe infatti ridurre la capacità di rispondere ad altre sfide come la ricerca del cibo, la riproduzione o anche la difesa da parte dei predatori. E poi in secondo luogo oltre che il trade off delle risorse anche le priorità riproduttive. L'obiettivo cardine infatti è la sopravvivenza della specie e la trasmissione dei geni alle generazioni successive è di fondamentale importanza. Gli individui che hanno raggiunto l'età riproduttiva potrebbero infatti ricevere minori risorse per riparare i danni perché l'evoluzione privilegia la salute e la sopravvivenza dei più giovani. In più l'investimento ha dei costi in termini biologici. In altre parole la riparazione dei danni richiede energie, richiede tempo e richiede anche delle risorse metaboliche. Investire eccessivamente in riparazioni potrebbe essere costoso in termini di risorse complessive disponibili per la sopravvivenza e anche per la riproduzione. In più anche la selezione naturale agisce in tal senso quindi l'evoluzione agisce per mezzo della selezione naturale e gli individui con migliori meccanismi di riparo tendono ad avere un vantaggio evolutivo.